Un ex alunno che da bambino aveva percorso quei corridoi labirintici, oppure qualcuno che ha avuto accesso alla struttura in occasione degli ultimi lavori di ristrutturazione e che era a conoscenza della porta secondaria che permette di sgattaiolare senza lasciare alcuna traccia. Dubbi e supposizioni su chi sabato scorso possa aver portato via 15.000 euro alle sue repie venerine che gestiscono la scuola in via Matteotti ad Ancona, che al momento del furto stavano pregando in cappella. A dare l'allarme era stata una convittrice, la cui stanza si trova accanto a quella dell'ufficio dove si trovavano i soldi ben nascosti in una scatola bianca, con sopra una videocassetta di padre Pio. Abbiamo scoperto che sono entrati dal giardino, hanno rotto il lucchetto e poi sono entrati in una classe che è sopra al giardino, hanno sfondato le due porte e sono entrati. E sono venuti qua giù al quarto piano di via Matteotti e in via Matteotti hanno trovato dove ci stava questa ragazza che ci è venuta ad avvertire e hanno purtroppo portato via tutti i liquidi. Il lunedì non avevamo cinque ride per andare a fare spesa. Un labirinto di scale corridoi, la scuola di via Matteotti. Alcune volte anche i genitori si perdono, dicono le suore, che scherzando affermano. La prossima volta li faremo accompagnare dal ladro. Sono due strutture messe insieme ed è difficile girare da soli internamente se non si conoscono bene. Alcuni genitori hanno espresso la vicinanza alle suore con una sottoscrizione lanciata da rappresentante della classe prima Francesco Perugini. Una struttura che ha tanti accessi. Le suore non escludono l'installazione di videocamere di sorveglianza o altri accorgimenti per garantire la loro sicurezza e quella dei bambini. Mettetevi una mano sulla coscienza. Così si rivolge sorrita agli stessi ladri. Se avete rubato siete stati incoscienti perché questi non sono soldi nostri. Sono soldi che vanno a beneficio di tutti gli alunni che sono qui dentro. Io penso che di notte non possiate dormire dal rimorso. Io penso che di notte. 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 Io penso che di notte.